Accoglienza che fa rima con convenienza, ospitalità che troppe volte fa rima con utilità nel senso di profitto. A Vicenza l'assistenza riguarda 2.900 rifugiati per un valore di 100.000 euro al giorno e addirittura 74 milioni in due anni. In media l'80% dei migranti sono uomini e il 75% non ha i requisiti per ottenere diritto di asilo. Per cui non dovrebbero essere a Vicenza ma ci sono e costano. Adesso però il sindaco Achille Variati non ci sta più e nell'assemblea ANCI tuona basta carrette del mare. I migranti mi hanno aiutati a casa loro. Diamo loro il diritto di non migrare dai loro paesi. Questi sono ragazzi giovani, hanno 20 anni, sono la forza viva dell'Africa sud-sahariana. Insomma restino nel loro paese, aiutino il loro paese a riemergere e noi magari aiutiamo per istruirli, per dare dei mezzi, per dare delle macchine che possano sviluppare lì il loro ingegno e il loro futuro. Un monito lanciato ai sindaci italiani, un messaggio in linea con quello che tempo fa, diceva lo stesso vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, che proprio su Rete Veneta aveva sostenuto come nei paesi poveri dove funzionano le missioni della Chiesa, nessuno vuole emigrare. Hanno trovato attraverso la missione la possibilità di avere dell'acqua, di avere delle medicine, di avere dell'istruzione e allora questo dobbiamo farlo, ma non lo possono fare solo i missionari. Io non vedo governi che si dedichino a creare delle situazioni di vita, soprattutto nel continente più bistrattato che è l'Africa.